In questo secondo video voglio prima di tutto evidenziare quale sia il vantaggio principale di lavorare in Color Management, ossia il fatto che una volta impostato correttamente il progetto è possibile in qualsiasi momento cambiare gamma e spazio colore di destinazione. Questo significa che non è più necessario effettuare un diverso lavoro di color per ogni tipologia di export, è sufficiente modificare le impostazioni di output affinché Resolve si occupi in maniera automatica di tradurre il nostro lavoro in accordo ai nuovi parametri di export. In sintesi, è ora possibile in un solo progetto e una sola timeline realizzare una color adattabile in automatico dal programma a qualsiasi formato e supporto di destinazione. Ovviamente, per verificare che tutto il processo di gestione colore si sia svolto in maniera corretta, è indispensabile disporre di un monitor in grado di riprodurre la gamma e il gamut del file di output. Quindi, se il delivery richiesto dal cliente fosse ad esempio un REC 2020 e il nostro schermo fosse limitato a REC 709, non avremmo modo di verificare che l'export REC 2020 rispecchia effettivamente ciò che vedevamo sul nostro schermo. Esiste però una mezza scappatoia. Si potrebbe reimportare il file esportato in REC 2020 e convertirlo in REC 709 per un controllo. È chiaro che questo tipo di verifica non può essere considerata pienamente affidabile, ma è comunque indicativa. Infine, se il programma, grazie al color management ha conoscenza dello spazio colore e del girato, può effettuare in maniera accurata tutte le trasformazioni che occorrono durante il processo di color. Se per esempio decidiamo di spostare un nodo in HSV per gestire la saturazione, come abbiamo visto in un video precedente, è importante che Resolve conosca lo spazio colore di partenza per applicare in maniera accurata la conversione. Lo stesso vale per lavorare al meglio con certi effetti. Le wheel HDR, per esempio, operano in un loro spazio colore e quindi per convertire con precisione le clip in entrata e riconvertirle in uscita, necessitano di conoscere lo spazio colore del girato. Chiudo il prologo segnalando che in questo video continuerò ad illustrare il color management esclusivamente a livello progetto. A partire dal prossimo video discuteremo tipi di gestione colore possibili ad altri livelli. Quindi, vediamo un po' più in dettaglio le varie voci offerte dal menu di impostazione del color management in project settings. Esattamente come nel primo video, nel quale ho fornito informazioni che qui do per acquisite, abbiamo in ingresso dei file Blackmagic Gen 5, lavoriamo in timeline nel DaVinci Wide Gamut ed usciamo in Rec.709 gamma 2.4. Prima nota. Timeline color space. La nostra timeline vive nel DaVinci Wide Gamut. È in questo spazio che svolgeremo il lavoro di color. Non nello spazio colore del girato, l'input color space, né nello spazio colore di delivery, l'output color space. Quindi i file importati in un progetto color managed saranno convertiti due volte, prima nello spazio colore della timeline e poi in quello scelto per l'export. Nessuno vedrà mai il file che stiamo lavorando nello spazio colore nel quale lo stiamo lavorando, neppure noi stessi. Ciò che possiamo tenere d'occhio è solo ciò che serve, ossia il risultato finale, ciò che esce dalla seconda conversione. È questo che vediamo nel monitor di preview. Cosa cambia l'atto pratico nel fare color in uno spazio Wide Gamut anziché in Rec.709? La matematica degli effetti è esattamente la stessa. Tutti gli strumenti continuano a fare quello che hanno sempre fatto nel modo in cui lo hanno sempre fatto. Quello che noteremo è che gli strumenti risponderanno ai nostri comandi in maniera diversa. Il lift, per esempio, risulterà estremamente sensibile rispetto a come eravamo abituati. È chiaro che servirà un periodo di aggiustamento che potrebbe risultare frustrante a chi fa da anni color nel Rec.709. Perché allora fare questo sforzo e non continuare a lavorare in Rec.709? Tanto più che con tutta probabilità la vostra libreria di loot sarà interamente pensata per funzionare in Rec.709 e non in DaVinci Wide Gamut. Di questo argomento non banale mi occuperò in un prossimo video. Ora torniamo a scoprire le varie impostazioni del color management a livello progetto. Dunque, la voce Timeline Working Luminance non deve preoccuparvi perché viene impostata correttamente dal programma in base al Timeline Color Space prescelto. Se per esempio ci spostiamo in Rec.709 Gamma 2.4 e quindi in Standard Dynamic Range, vediamo che il parametro viene dedotto a 100 per evitare clipping. Anche qui il discorso sarebbe lungo, sicuramente qualche informazione in più uscirà fuori nel prossimo video quando ci occuperemo del Color Space Transform, ma al momento non serve. Torniamo in Wide Gamut e quindi a 1000. L'output Color Space ci chiede come sappiamo quali siano i parametri richiesti per i delivery, ossia per l'Espot. Nel nostro caso Rec.709 Gamma 2.4. Il Limit Output Gamut ci permette di limitare lo spazio colore effettivamente utilizzato entro un margine più restrittivo rispetto a quello stabilito nell'output Color Space. Questo può servire per far sì che un file distribuito in un dato gamut sia correttamente visualizzabile anche su supporti incapaci di riprodurlo. Posso ad esempio esportare un file in Rec.2020, cosicché domani sia compatibile con sistemi di riproduzione che non accettano più standard inferiori, utilizzando però solo i colori del Rec.709.4. Cose che oggi quel file sia correttamente visualizzabile da qualsiasi monitor. Arriviamo così al ben più importante Input e Output DRT. DRT è acronimo di Display Rendering Transform. I due processi fanno esattamente la stessa cosa, solo che il primo si occupa della conversione dallo spazio colore della camera a quello della timeline. Nel nostro caso quindi da Black Magic Gen 5 a DaVinci White Gamut. Mentre il secondo converte lo spazio colore della timeline in quello di output. Quindi nel nostro esempio traduce il DaVinci Wide Gamut in Rec.709. Ciò che possiamo scegliere dal menu a tendina è quale modello matematico utilizzare per queste due conversioni. Ogni modello ha una sua specializzazione e non volendo mettere insieme un video di ore sarò estremamente sintetico nel descriverle. Di base il luminance mapping tende a fornire risultati migliori nel convertire i gamut standard, come appunto Rec.709 o BT.2020, mentre il DaVinci è ottimizzato per la conversione degli spazi Wide Gamut, come quelli impiegati dalle telecamere cinematografiche. Black Magic Gen 5, Ari Log C, Canon C-Log eccetera. Quindi per quanto riguarda l'input DRT, se il file di partenza è un qualsiasi log di una qualsiasi camera è consigliabile il metodo DaVinci. Se il file di partenza è un Rec.709 conviene scegliere il luminance mapping. Per quanto riguarda l'output è il discorso identico. Se per lo spazio colore della timeline abbiamo scelto un Wide Gamut è preferibile il DaVinci. Se abbiamo impostato uno standard come il Rec.709 e il Rec.2020 conviene il luminance mapping. Le altre soluzioni per quanto mi riguarda sono decisamente meno utili, quindi almeno in questo video preferisco ignorarle, dedicando semmai un paio di minuti a chiarire cosa facciano questi DRT. Sono dei sistemi di tone mapping, sono i modelli matematici che si occupano di rimappare le immagini per trasportarle da un gamut all'altro evitando il più possibile di alterarle. Quindi anche comprimendo nel modo migliore il segnale quando le immagini vengono trasferite da un gamut più ampio a uno più ristretto. Come avviene nel nostro caso passando dal DaVinci Wide Gamut della timeline al Rec.709 dell'output. È fondamentale che un buon DRT riesca in queste circostanze non solo a non clippare il segnale, non solo a comprimerlo, ma anche a produrre un morbido roll off sia verso i bianchi che verso i neri. Come suggerisce il nome, i display rendering transform sono nati per comprimere all'interno di uno spazio standard dynamic range come il Rec.709 spazi HDR, high dynamic range, come quelli in cui lavorano le camere. Di conseguenza quando si converte un file sdr in uno spazio hdr è necessario espandere il segnale anziché comprimerlo e quindi l'operazione da compiere è letteralmente inversa a quella tipica del DRT. Spuntando questa voce si permette a Resolve di compiere, ove necessario, quest'azione inversa. Use White Point Adaptation. Molto semplicemente, spuntando questa opzione, Resolve nel convertire le immagini da un gamut all'altro applica una trasformazione di adattamento cromatico per compensare le differenze relative a diversi punti di bianco dei diversi spazi colore. Se si vuole vedere e mantenere il bilanciamento cromatico originale delle immagini, non c'è motivo per non spuntare questa voce. Apply Resize Transformation Scene. Questo settaggio permette di scegliere quale spazio colore utilizzare per l'operazione di Resizing. Abitualmente il Resizing viene effettuato in Linear, che in genere è lo spazio migliore quando si ha a che fare con file sdr. Quando invece si utilizzano media hdr è consigliabile scegliere il Linear Mapped. Per qualche motivo risolve in post di default il Gamma, che nel pantagruelico manuale viene affiancato unicamente da questa laconica descrizione. Fornito in caso ne aveste bisogno. Ok. Scegliendo timeline si utilizza il color space della timeline. Il log è consigliato per evitare artefatti nelle immagini ad alto contrasto, come le titolazioni. il Gamma Mapped fornisce risultati migliori quando in timeline si hanno sia media sdr che wide gamut. E con le impostazioni ci fermiamo qua. A questo punto può sorgere una domanda. Come possiamo gestire file di origine diversa sulla stessa timeline se si lavora col color management impostato a livello progetto? Per quanto riguarderò, Resolve è in grado di identificare tramite la lettura dei metadata la provenienza di quasi tutti i file di questo tipo, da Canon, Aria e Sony a Red e Panasonic. E in base a questa identificazione, se necessario, il programma modifica automaticamente l'input color space a prescindere da quello che abbiamo impostato. Nel nostro caso, per esempio, io posso pure dire a Resolve che i miei file sono dei Sineon, ma lui continuerà a trattarli come dei Blackmagic Gen 5. E infatti, come possiamo vedere, l'anteprima non è minimamente cambiata. Se anziché con i RAW lavoriamo con dei file video, Resolve è comunque in grado di identificarli tramite metadata e di impostare di conseguenza l'input color space. Tuttavia, in questo caso, come nel caso che i file non possedano metadata o siano stati taggati in maniera scorretta, possiamo bypassare gli automatismi di Resolve impostando manualmente il color space nei nostri file dal media pool. E in questo caso si può chiaramente vedere come la cosa abbia un'influenza. Infine, se per qualche motivo volessimo impedire del tutto a Resolve di occuparsi della gestione colore di certi file, possiamo facilmente sottrarli al color management sia dalla tab color che dall'edit. È sufficiente cliccare col tasto destro sulle clip che vogliamo escludere dalla gestione colore e selezionare bypass color management. Per questo video è tutto, nel prossimo facciamo la conoscenza del color space transform per gestire il color management direttamente in timeline e vediamo anche quali vantaggi ci sono ad appoggiarsi al color management anziché utilizzare delle loot. E magari accenniamo anche a quali margini di utilizzo abbiamo per le nostre loot REC709 quando lavoriamo in color management. Perché no? Ai valorosi sopravvissuti fino a questo punto, ai Saluzio.